Stai programmando la tua prossima vacanza a Tenerife? Stai pensando di affittare un appartamento in maniera da liberarti dei vincoli di un hotel ed essere più indipendente proprio come a casa tua? Allora guarda questo video, guardalo fino in fondo. Siamo in Costa del Silenzio, a 10 minuti dallo Scristianos, a circa 15 minuti dall'aeroporto sud di Tenerife. È una piccola località turistica perfettamente servita dai mezzi di trasporto e dove troverai tutto ciò di cui puoi aver bisogno durante la tua settimana di vacanza. Bar, ristoranti, negozi, centri commerciali, supermercati. Qui avrai solo l'imbarazzo della scelta fra le molteplici attività che potrai fare durante la tua vacanza, dal trekking, immersioni, snorkeling, alle più tranquille passeggiate sul lungomare, dove, perché no, potresti fermarti in uno dei tanti ciringhiti per goderti la magia del tramonto. Ci troviamo nell'urbanizzazione El Drago, nel cuore di Costa del Silenzio. Ciò che contraddistingue questo complesso è la presenza di un parco, con le sue palme, i suoi alberi, che l'abbraccia quasi per intero e che ospita i tipici pappagallini canari, che ti accompagneranno lungo i sentieri che attraversano tutta l'urbanizzazione. Dall'entrata principale accedi direttamente al grande parcheggio di uso esclusivo, dove potrai comodamente parcheggiare il tuo mezzo. Una delle chicche di questa urbanizzazione è l'ampia area relax, dove trovi la sala con wifi gratuito e una zona con dei comodissimi dispenser per l'acqua, bibite, gustosi snack, gelati, sigarette e anche il caffè. Guarda di che incredibile vista puoi godere affacciandoti dalla terrazza principale dell'urbanizzazione. Hai a tua disposizione per te e per la tua famiglia ben due piscine, la grande per gli adulti e quella piccola per i tuoi bambini. Quest'area è esposta al sole durante tutta la giornata, quindi puoi venire ad abbronzarti non solo in qualsiasi momento dell'anno, ma anche a qualsiasi ora del giorno. Chiamate questo numero per maggiori informazioni e un preventivo. «Hasta luego». «Hasta luego». «Hasta luego». «Hasta luego». «Hasta luego».